E voi non potete capire quello che si trova? Occhio a miseria! E la cosa che se non la provi non puoi capirla Io vi auguro di trovare con i vostri figli come l'ha provato il fratello mio, Carmelo Menucci con la sua figlia quando un paio di giorni fa è stato il suo compleanno, il diciottesimo abbiamo fatto il diciottesimo perché ci siamo proprio divertiti, veramente e sono delle emozioni un po' particolari non è il compleanno, oh nonno massimo, il compleanno mio che non me ne frega proprio un cazzo non mi interessa, allora lo fessettiamo e ci divertiamo ma è la cosa più bella sono i figli parola d'anzia, parola d'amore ho bella che ha da voglia papà non dice quei parola e l'anzia era amata e tante le due cose e sono i figli e l'anima che abbiamo da chi è soli solo l'anima è bella e bella è bella che nessuno non potrebbe avere un'azienda che non è felice chi sarà gioia amata che si fa luce è sempre del doppio anche il sostitio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti